Dopo lo stop di Capodanno riparte nel Salernitano la campagna vaccinale con la riapertura dei centri di somministrazione. L'obiettivo è iniziare il nuovo anno con uno sprint immunitario e frenare l'avanzata del contagio. Situazione difficile in costiera amalfitana con centinaia di nuovi casi al giorno. I comuni della Divina hanno deciso di correre ripari e di affiancare con medici e volontari del territorio il personale dell'ASL. Potenziata l'offerta vaccinale per accelerare le coperture, come spiega il sindaco Andrea Reale. La nostra ricetta è quella della collaborazione istituzionale. Tutti insieme si può vincere questa pandemia, questa quarta ondata. Medici, infermieri, amministrativi, OSS, volontari che gratuitamente andranno a rafforzare sia l'USCA Costa da Malti ma soprattutto il centro vaccinale che da tre giorni passerà a cinque giorni di attività. Il sabato e la domenica per 12 ore e mentre gli altri tre giorni della settimana per solo il pomeriggio. Nel frattempo, dopo la relativa tregua delle scorse settimane, anche a Salerno Città si registra un'impennata di contagi. Quasi tutti occupati i posti a ruggi riapre il Covid Hospital del Daprocida. Nelle prossime ore saranno anche trasferiti i primi pazienti per allentare la pressione sul nosocomio di Via San Leonardo.